Una pericolosa malattia sta colpendo la popolazione mondiale. L'ecoansia. Gli effetti sono spaventosi. Gente che sente caldo in estate e freddo in inverno. Tremori per paura che un orso colare bussi alla porta. Sudorazione per solidarietà e ghiacciai che si sciolgono. Ma non temere, abbiamo la soluzione. È arrivato Climacalm, la risposta alla tua ecoansia. Con Climacalm, dopo un iniziale dolorino, sentirai aumentare la supposta serenità. Spingila e sarai felice. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Possibili effetti collaterali includono fiducia ecologica, aumento delle conversazioni sul clima, ritrovata fiducia nel biossido e nel carbonio e diminuzione dell'ansia da bollette energetiche. Con Climacalm, piegarsi non è mai stato così bello. Climacalm, la giusta piega. Contro l'ecoansia.